Fil Rouge di Livia Marques. Parlaci di questa installazione, dell'idea dalla quale nasce. Fil Rouge nasce dall'interazione con un filo rosso che collega la torre di Villa Nappi con il cortile. Da quest'idea di accumulazione del filo è venuta fuori la possibilità di collegare il cielo con la terra e poter in questo modo cogliere nella fragilità del filo la sua possibilità di connessione con la fragilità dell'architettura. Ho lasciato il titolo solo Fil Rouge perché credo che ognuno ci veda un po' quello che sente. C'è chi ci vede il filo di Arianna, c'è chi ci vede il semplice tessere, c'è chi ci vede un aquilone, c'è chi lo vede dal basso verso l'alto, c'è chi lo vede dall'alto verso il basso, quindi la torre che collega la terra, la terra che collega la torre. È un po' un punto in grado di un'installazione con un'interazione materica, quale il filo rosso, che poi può espandersi, quindi questo è stato il primo piano di sperimentazione. Grazie Lidia. Grazie a voi.